Non si nega che problemi psicologici ed emozionali, persino una grave angoscia, possano influire praticamente su chi vuole. Ma vuol dire che siamo tutti matti? Che cosa causa l'angoscia psicologica? Secondo gli psichiatri di un tempo si trattava di uno squilibrio degli umori, curabile solo salassando i pazienti con bisturi e sanguisughe. Altri psichiatri, credendo che i disturbi mentali venissero generati da organi quali le tonsille, lo stomaco e la milza, li asportavano. Anche i successivi tentativi di alterare la funzione cerebrale fecero un buco nell'acqua. Ora, stando agli psichiatri, si pone rimedio ad un comportamento sgradito equilibrando le proprietà chimiche cerebrali con una pillola. Ma questa volta l'hanno azzeccata. Nonostante questa assenza di prove, gli psichiatri vi diranno che gli psicofarmaci sono proprio come i farmaci convenzionali. Ma può essere vero? La risposta è che a differenza di un farmaco quale l'insulina, che rimedia ad uno squilibrio tangibile comprovato nell'organismo, gli psicofarmaci non hanno una normalità fisica misurabile o visibile da correggere. Ecco la prova di un'infezione batterica. Ecco il disturbo psichiatrico deficit d'attenzione e iperattività. Ecco una frattura al braccio. Ecco un disturbo depressivo maggiore. Questo è un tumore cerebrale. E questo è un disturbo bipolare. Il che solleva l'interrogativo, come si fa a medicare qualcosa che non esiste fisicamente? La risposta è non si può. E perlopiù, dato che gli psicofarmaci vengono appositamente ideati per oltrepassare le difese naturali dell'organismo fino al cervello, possono sfasare i delicatissimi processi necessari al cervello per garantire l'ottima funzionalità del corpo. Ogni volta che metti qualcosa in questo sistema, che è iniziale al sistema, crea imbalancesi in un'altra parte. Il corpo cambia come risultato di prendere la medicazione. Quindi quando stopi di prendere la medicazione, il corpo deve cambiare inizio alla forma che era prima, se può, perché non può sempre. E in questo modo distruttiva il tutto il sistema. Ecco ciò che provoca gli, a volte molto gravi, effetti collaterali. Paxil era la droga che mi ha dato insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first two days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work, because I was so sick. Sightmez didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me. Maybe even 20. Only now, I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were just destroying me. Nonostante gli effetti debilitanti dei loro psicofarmaci, gli psichiatri e le case farmaceutiche li hanno usati per creare un colossale mercato lucrativo che frutta miliardi. E l'hanno fatto etichettando un numero sempre maggiore di problemi della vita, disturbi mentali che necessitano trattamento psichiatrico. Per esempio, la timidezza diventa disturbo d'ansia sociale. Perdita di un caro, disturbo depressivo maggiore. Nostalgia, ansia da separazione. Sospetto, disturbo paranoide di personalità. Provare degli alti e bassi, disturbo bipolare. Facilità a venire distratti, ADHD. Ecco perché è quasi impossibile al giorno d'oggi visitare uno psichiatra senza venire diagnosticati con un disturbo mentale. E una diagnosi di disturbo mentale vuol dire psicofarmaci. E si stima che tali psicofarmaci causino 700.000 gravi reazioni avverse all'anno e 42.000 decessi. Nel frattempo, l'industria psichiatrica rastrella un terzo di un trilione di dollari all'anno. Non si tratta del fatto che i problemi emozionali della gente siano reali o meno, lo sono. Quello che bisogna chiedersi è come hanno fatto gli psichiatri a convincere la gente che questi problemi segnalassero disturbi mentali? Come hanno usato tali disturbi per creare una richiesta da parte dei medici e dalla collettività per gli psicofarmaci? E questi psicofarmaci, senza noti poteri curativi e con una lunga lista di effetti collaterali, come sono diventati il trattamento standard per ogni problema della vita?